ciao a tutti e benvenuti in questo primo video del canale su il nuovo microsoft ok allora questo è un video extra esatto e non sappiamo neanche se lo caricheremo su youtube queste sfide settimanali sono settimanali e quindi vedremo cosa ci offriranno i ragazzi di microsoft e tutta la gente che ha lavorato a questo simulatore riduciamo la dimensione della webcam voilà e iniziamo continua vai vai riavviamo ragazzi è un paio di volte che io sto riprovando a fare sì ci ho anche provato io dopo ci riprovo è molto complicato questa è una pista che è in salita e noi ci stiamo trovare ma un inizio da un facciamo vedere guardate a parte di scenari da un punto alla non guarda che p non è non è questa si trova a cusche belle è una piccola cittadina francese ho capito che non dobbiamo spaventarci della della velocità perché dopo arriveremo a un punto in cui cittadina francese perdiamo le fa così se ho comunque sottolineare gli scenari non è un altro ora dobbiamo tenersi una manetta ragazzi perché del terreno ma stessi e per poi non troppi la città l'età pensano i fatti da motulani il fax manetta giovanetta giovanetta la cosa brutta che fanno i flaps è quella di aumentare la velocità di stallo ok ci siamo ci siamo eh dobbiamo farlo il più morbido possibile la vedo di merda morbidissimo dire questo era il tentativo dell'esperto non è impossibile ma se io non mi atterrasse con i flaps e si no questo non erano molti punti michele infatti il simulatore che guida dei punti e di classifica sulla classifica mondiale ok prena 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 ok obiettivo sbloccato quanto è precisione sulla media tra l'altro avete visto obiettivo sbloccato di xbox live visto che il gioco è vogliamo ritrovare a commentare ci riprovo io no ci riprovo io no dai ci riprovo aspetta riprovo iniziamo andrea vada via io sono andato da fuori ed è più facile anche arrabbi perché quindi ragazzi non abbiamo riattivato sono masochista siamo a sono troppo veloci 108 9 109 tra l'altro cioè vedi è riportato il valore esatto molto comoda questa interfaccia schermo devo dire è anche molto figa molto ben fatta ok grazie Michele ora già vedo un pochino di rognosità da parte dell'aereo, una volta scattati.. altri flaps? aspetta Ambasso il tutto, meglio. Flaps! Vai! Bella botta in giù di nodi, ringraziamo. Siamo al massimo di mandare la manetta! Io riavvio perchè questo faceva schifo. Giù via manetta. E' esplosso tutto. Dritto, e poi dai tutta una sterzata alla cazzo di cani. Lo faccio. Alla bene ti segugio. Come mai qui stiamo rallentando? Che bello, ragazzi, abbiamo il motore. Ve lo vedete a quanto abbiamo il motore. Perché è un aereo di merda. No, è che è il motore. Ma no, se ti piace, ti diamo l'usciolo. Il final. Via, flaps, motore, tutto su, via motore. Via motore, via motore, via motore, via motore. Beccaci! Cazzo. Questa era bella, ragazzi. Questa era bella, era bella. 400, nel tanto. Ora ci mi riprovo io. Mi sono, ti ho superato. Paura che riallenta. Cazzo, mi puoi fare per me. Ma il tavolo è. Gira! Vira! Vira che cazzo. Flap! No! Motore! Motore! Azione! È morto. Flap, ce la diamo alla prima. Ci potrebbero assumere le ragia nera. Sì, via. Via il motore. Allegretto. Allegretto, va su Allegretto. Guarda come arriviamo. Allegretto. Guarda, 80, 70, 70. Ma questo deve essere buono. Questo deve essere buono forte, ragazzi. Deve essere buono. Questo deve essere buono. Vediamo un po'. Con uguale a prendere. No, meglio. Però... Perché il rullaggio a terra. Cosa? Allora, durante i primi tentativi... Abbiamo fatto pagare. No, no. Io mi sono perso come ero fatto per certissime attività. Sono persi. E' te. Dove sono? Io ero lì. Dove sono? Mi sono... Mi perco. Quello cazzo fai a perdere. Sei su un aereo. Cioè, guardi. Non ci sono perso. No, non ci sono perso. Qua non si capisce un cazzo. Vedi tipo qua, l'asfalto della strada. Può essere confuso per l'asfalto della pista. Non trovi? Eh? Eh, non trovi tu. Dai. Flap. No. Ti piace. Ti fermo, te. Fermati. Fermiti. Oddio. No, ragazzi, ci spiantiamo. No. Su sti cazzo di giro. Fa allegretto. No, sto è troppo allegretto. Flapsi. Allegro più allegro. Flaps al centro. Ora, allegrissimo, proprio di un'allegrezza. Allegro. Porca troia, va troia. Che cazzo del fratto con il pano da peccato? Vai, ti sorrido nei caproni. Ninja per te. E quindi il tulipano. Giampia Paolo. Venne, venne da te. Il treno dei petardini. In the wall of the night of the sky. Abbiamo fatto... Cioè, questo è il risultato. Il video termina. Qui non vi ringraziamo per la visione. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al video. Guardate la campanella per essere... Per ricevere tutte le notifiche di tutti i video. Inoltre, in descrizione ci sono i link per seguirci su Instagram, accedere al canale Telegram per tanti contenuti esclusivi e accedere al server Discord e quindi unirvi alla descrizione. Alla discussione. Alla discussione. Alla discussione, lo so. Unirvi alla descrizione. Alla descrizione. Alla defecazione unirvi. Unirvi alla defecazione di tutta sta roba. Unirvi alla discussione. E se c'è un... C'è un sacco. Potete ottenere le cari. Tenetevi comunque. Andiamo. Ciao. Ciao. Noi vi ringraziamo ancora per aver visto il video. Vi diamo un contamento al prossimo. Ciao. Ciao.